Ciao, eccoci qui! Eccoci qui al video su Giove in Sagittario. Mamma mia, sono così eccitata per questo video, veramente! Allora, cominciamo dall'inizio. Ciao, qui è Hilary di Acqua Fortis Astrology. In questo video parliamo del transito di Giove nella casa del Sagittario. Evviva! Allora, in questo video vedremo chi è Giove. Come diventa Giove in Sagittario? Cosa significa per tutti noi? E come possiamo utilizzare questo transito al meglio? Allora, Giove è entrato praticamente nella casa del Sagittario l'8 di novembre 2018. E ci sta fino al 2 di novembre 2019, per cui è un anno e un mese circa. Allora, vediamo un po'. Chi è Giove? E chi e come vediamo Giove nella nostra vita di tutti i giorni? Allora, Giove nell'astrologia tradizionale è visto come l'alleato nel partito politico del Sole. Anche lì ci avevano i partiti politici, eh? Infatti, Giove è visto come il pianeta che porta il regno del Sole sulla Terra. Per cui lo troveremo bazzicare intorno alla giustizia, l'autorità e i governi. Perché Giove rappresenta il Sole sulla Terra, allora Giove può conferire onori e gloria. Colui che conferisce regali, abbondanza e ricchezza. Perché Giove è il nostro collegamento al Sole, lui rappresenta la nostra fiducia e fede, rappresenta qualsiasi posto o persona o religione. Il carattere di Giove è come la primavera, no? In eterno cambiamento, gioviale e ottimista al massimo. Per cui Giove conferisce buone cose e ci solleva da quelle brutte e ci dona la libertà. Giove si deprime raramente e adora la compagnia. E la cacciara in generale, ecco. Giove piace stare in piena amicizia. Per cui troverete Giove dove ci sono alleanze, unioni, fratellanze, avere dei soci ed essere in amicizia con uomini e donne che hanno grande importanza. Allora, com'è il Sagittario? Il Sagittario è un segno di fuoco. Per cui basilarmente significa che è un'energia attiva, energetica, spontanea, impulsiva, incontrollabile. Il segno del Sagittario è un segno mutevole. Per cui significa che è un'energia in continuo movimento, che si adatta facilmente, per cui porta armonia e abilità di finire le cose se è necessario. Il Sagittario è un'energia che va verso l'esterno, per cui è collegato al giorno, l'estroverso, il yang, proiettato verso il mondo, l'azione. Il Sagittario ha come padrone di casa Giove. E allora, come diventa Giove in Sagittario? Cioè, Giove è casa sua. Da quello che abbiamo detto fino ad ora su Giove e Sagittario, si capisce abbastanza facilmente perché questi due vanno insieme come culo canisce, insomma. La casa del Sagittario offre a Giove esattamente quello che vuole. Per cui, quando Giove è in Sagittario, ha la libertà di essere stesso al massimo, non c'è nulla che l'ompedisce. Quando Giove è in Sagittario, avrà tutta la filosofia e il viaggiare fisico-metaforico su cui nutrirsi. Diventerà il guru, l'insegnante, l'esploratore dei mondi esterni e interni, come può anche diventare il religioso fanatico, eh? Giove in Sagittario trova la leggerezza dell'essere, dell'ottimismo, di fare battute su tutto e senza reverenza a nulla. Come anche dirla com'è senza pensare alle conseguenze e credere che tutto sia fattibile in modo molto facile. Giove in Sagittario trova la possibilità di movimento, per cui diventa l'amante della libertà e il paladino della libertà di pensiero. Lo sport diventa un'esigenza importante, come anche esplorare nuovi posti, idee, concetti e di non appartenere a nessuno di loro. Giove in Sagittario trova amicizia e alleanza in abbondanza, per cui diventa il filantropo, il benefattore, il patrono, l'imprenditore. Per cui in qualsiasi parte del vostro tema natale a Sagittario come cuspide, quando Giove ci passa, la sentirete come qualcuno ci ha messo il fuoco dentro. Improvvisamente quella casa diventa irrequieta, è un desiderio da morire di cambiamento. Improvvisamente quella casa diventa più grande e farà un baccano che non potete ignorare assolutamente. Improvvisamente quella casa diventa il posto dove cercherete un rinnovato modo di senso della vita, di come dare un senso alla vita. Un nuovo modo di raccontarci una storia e farne un senso compiuto. Se in quella casa del Sagittario avete dei pianeti come la Luna, il Sole, Mercurio, Venere, Marte e Saturno, allora quella storia che è appena cominciata diventerà la vostra storia personale. Giove in quel punto specifico della vostra vita vi porterà insieme a sé in un lungo viaggio, un po' tipo un viaggio on the road, alla scoperta della libertà, di aprire nuovi orizzonti e andare oltre quello che sappiamo già, a qualsiasi costo. Se avete Giove nella casa del Sagittario, allora state per cominciare un nuovo ciclo di Giove nella vostra vita. Immaginate che Giove che transita vi porta un resettaggio completo e un download nuovo del vostro Giove nativo. Un po' più poeticamente possiamo dire una rinascita del vostro Giove. O possiamo immaginare che state per portare la vostra macchina alla casa madre e ve la rifaranno nuova, con il nuovo software, con tutto quello che è la versione nuova. In qualsiasi casa Giove in Sagittario sta transitando, nel vostro tema natale, vi chiederà di rischiare e di giocare ad azzardo, anche se non avete una pallida idea come funzionerà. Giove non gli piace guardare i dettagli e Giove in Sagittario diventa il grande visionario dei grandi sogni, diventa il suo motto io ho un sogno e se lo posso sognare lo posso fare. Giove è un portatore di belle cose, ma c'è un pegno da pagare per avere quelle cose. Li promette, ma solo se paghiamo quel pegno, di uscire dal nostro seminato e di rischiare il tutto per tutto. In quella parte della vostra vita, Giove in Sagittario vi sta chiedendo di mettere a prova e rinnovare la vostra fede. Qualsiasi po' di fede è, in qualsiasi modo la concepite, non è importante. Quello che è importante è che avete i cosiddetti attributi per rischiare il tutto, per fare quel sogno diventare realtà. Ve lo ricordate? Io ho un sogno e se lo posso sognare lo posso fare, ma quello richiede un rischio, quello richiede azzardare con la vita, buttarsi lì e non sapere come andrà a finire. Ok? Allora, se volete sapere di più sulla vostra storia in Giove in Sagittario nel vostro tema natale, o volete sapere qualsiasi altra cosa sul vostro tema natale, non esitate a contattarmi per una consulenza privata. E prima di andare via, vi prego, fatemi sapere cosa ne pensate, pollice in su, condividete e sottoscrivete alla mia pagina, perché farete sicuramente tanto, tanto felice Giove in Sagittario. Buona fortuna! Ciao!